Dalla Sardegna all'Emilia Romagna, passando per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Laboratorio Italia della Fondazione Gimbe apre le porte ai cold case che hanno fatto anche la storia della sanità in questo paese. Siamo appunto con Oscar Bertetto che ha illustrato in questa giornata la rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta 20 anni dopo questa sperimentazione. Quali sono i dati ma soprattutto quali sono i risultati che 20 anni dopo riuscite in qualche modo a cristallizzare? Siamo riusciti a creare un'accoglienza per gli ammalati oncologici a livello dei vari ospedali della nostra regione dove l'ammalato con un sospetto clinico di malattia trova ad accoglierlo un medico, un infermiere e un personale amministrativo che è in grado di prenotargli e di fargli eseguire tutti gli esami che servono in modo tempestivo e coordinato alla diagnosi della stadiazione della sua malattia. Inoltre per ciascun tipo di tumore abbiamo reso obbligatorio che le aziende mettessero in piedi dei gruppi interdiscinari cure, quindi l'insieme degli specialisti che servono a trattare quella determinata patologia dal chirurgo al radioterapista, all'oncologo medico, all'anatomopatologo, al radiologo e infine abbiamo individuato i centri di riferimento per ciascun tipo di tumore quindi per ogni tumore noi abbiamo identificato in quali ospedali può essere trattato per esempio il tumore della mammella è trattabile oggi in 16 ospedali in Piemonte più uno in Valle d'Aosta il tumore del polmone avrà sei centri hub in Piemonte, uno in Valle d'Aosta e altri tumori, per esempio i tumori più rari come il sarcome, un unico centro per tutte e due le regioni quindi siamo riusciti in qualche modo a identificare in base alle tecnologie presenti negli ospedali all'esperienza degli operatori, al volume di attività, al modello organizzativo dove l'ammalato può trovare la più giusta risposta al suo tipo di patologia